Cosa aveva fatto il Napoli ragazzi? Ma non mi ha già metto qua, ma non mi ha metto qua, chiuso. Ok, chiuso. Ma il Napoli è ancora in attacco con Zielischi. Può andare l'uno contro l'uno, supera Rugani, la mette a destra per... Ha segnato il Napoli forse ragazzi, attenzione! Goal! Tu puoi avere pure i fuggiti. Incredibile ragazzi! E ora ora si sta sempre più in alto, si va e ora ora con me. Il mondo è fatto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone. Per far confusione fuori e dentro l'inte. Ce lo siamo presi a Torino! Incredibile ragazzi, incredibile! Il gol sputato. Rissa intanto, con Locatelli che ce l'ha con qualcuno. A Torino! Allora, ha segnato Jack Raspadori. Ha il suo primo pallone toccato, geniale, il tocco di Elmas al volo. Sul secondo pallo Jack Raspadori che trafisce Cessni. Ve la fa affassare sotto le gambe, il postiere polacco. E allora ragazzi, mettetevi comodi perché è domenica. Ragazzi, doppio appuntamento di Onda Azzurra a Stagio. Domenica andiamo in uno. Mamma, mamma, ce lo siamo presi a Torino! A Tremurico, Fiette e Cramore! Però non abbiamo detto una cosa importante che ha segnato Giacomo! Raspadori! Giacomo! Raspadori! Giacomo! Raspadori! Napoli 1, Juventus 0, quando ancora si lamenta perché voleva quel fallo in area di rigore! Raspadori!